Filip Djuricic al Panathinaikos, due piccioni con una fava, ottima scelta. È ormai ufficiale la notizia della rescissione consensuale del contratto tra Filip Djuricic e la Sampdoria. È stata, a mio amore di vedere, un'ottima scelta, ovvero Djuricic è un giocatore con dell'ottimo potenziale, con dell'ottimo talento che però Genova non l'ha mai espresso. Nell'ultima stagione è stato protagonista di un campionato denudente, un giocatore indolente, uso questo termine. Ha giocato sin troppo, forse perché è anche protetto da Stankovic. A livello di contratto aveva ancora un anno, più un'opzione per l'anno ancora successivo, ha delle cifre estremamente alte, poi non parliamo per la Serie B, o in oltre un milione di euro all'anno. Quindi abbiamo preso due piccioni con una fava, ci siamo tolti un giocatore scarso e ci siamo tolti un ingaggio importante. Buona fortuna a Djuricic.